Cosa faremo? Mappe concettuali che diventano strumenti pratici per gli insegnanti, misure pratiche per fare lezioni attive, più coinvolgenti e più divertenti, per studenti e per l'insegnante stesso. I concetti svilupperemo, ma ancora di più, gli strumenti, le pratiche. Una base di lezione attiva in tre fasi, per esempio, come far muovere il corpo, che chiameremo corpo move, con piccoli esercizi, presidiare le emozioni, che sono un grande potenziatore della didattica, e spingere verso l'impegno e lo studio. Per cui questi tre aspetti li svilupperemo in maniera molto approfondita. Per cui un corso sia teorico, che perché mette delle basi, ma anche molto, molto pratico. Per cui un grande invito a tutti gli insegnanti, perché creare lezioni più coinvolgenti e divertenti è molto importante per voi insegnanti e anche per i ragazzi.